La polizia di Hong Kong ha arrestato numerose persone che hanno manifestato contro il governo di Pechino in occasione del primo giorno della visita ufficiale del presidente dell'Assemblea Nazionale Cinese, Zhang Dejian. Le proteste sono proseguite davanti all'albergo in cui il numero 3 del potere cinese alloggia. Ora Zhang è imbarazzato e non intende vederci perché gli attuali e i passati dirigenti di Hong Kong non ascoltano i cittadini e perché l'intero sistema è corrotto. Noi abitanti di Hong Kong siamo chiari, vogliamo il suffraggio universale e un nuovo capo di governo. Zhang Dejian è il primo alto rappresentante del potere cinese a visitare Hong Kong dal 2014 quando prese l'avvio il movimento di protesta Occupy Central. Parlando ai giornalisti appena atterrato, ha promesso di ascoltare suggerimenti e richieste degli abitanti della ex colonia britannica e di applicare il principio un paese, due sistemi. La visita, ufficialmente giustificata con la partecipazione a un vertice economico regionale, si svolge in un contesto di eccezionali misure di sicurezza con oltre 6.000 poliziotti schierati.